Inizio d'anno col botto per la palla a mano di Urgenti. La formazione di coach Maurizio Camilleri continua a vincere nel campionato di Serie B. Squadra bianco-azzurra forte, umile, compatte, battagliera contro qualsiasi avversario. Anche sabato scorso in casa contro il Ragusa, Dalli Cardillo e compagni hanno dettato legge, vinto con grande merito. Il risultato finale, 36-18, la dice lunga sul dominio dei giganti, apparsi rettamente superiori all'avversario in ogni zona del campo. La palla a mano a Girgenti si conferma una perfetta macchina da gol. Anche contro il Ragusa, gli agrigentini sono dati oltre 30 reti con schemi efficaci e qualità tecniche individuali di categoria superiore. Mattatore del match, Vaiana ha segno per ben nove volte. Bene anche il solito pace, autore di sei marcature. In tanti hanno sporcato il tabellino, cinque reti per Gelo, quattro gol a testa per De Caro e Zambito, tre marcature per Dalli Cardillo e Podario, due gol Mantisi. La palla a mano a Girgenti blinda il secondo posto alle spalle dell'imbattuta capolista Albatro Siracusa, allenata da Beppe Vinci. Le due formazioni sono divise da due punti in classifica, con due turni di anticipo, sia il Girgenti che il Siracusa hanno staccato il pass per la Final Four di Coppa Italia. Un primo grandissimo traguardo per la giovane e competitiva palamano a Girgenti che continua a sognare in grande.